Vorrei dire innanzitutto che a me pare, in connessione con alcuni degli interventi che ho ascoltato e anche da ultimo con l'intervento di Angelo Rossi, ma a me pare, vorrei sottolinearlo questo punto, magari con più decisione, che il rapporto, il nesso oggi vada istituito tra la questione meridionale, così come in maniera complicata e diversa dal passato si sta configurando, e la realtà dell'Unione Europea. Ecco che questo rapporto, secondo me, va interrogato, indagato molto incisivamente, molto attentamente. Insomma, si potrebbe dire che quella che Gramsci parlava non chiamava la grande disgregazione sociale del mezzogiorno, quando poneva l'attenzione sulla questione meridionale. Beh, oggi, questa grande disgregazione sociale dei tempi di Gramsci, oggi è divenuta, a me pare, un qualcosa di complesso e di sfuggente, cioè, io lo direi così, un mix micidiale, antropologico e sociale al tempo stesso e culturale, un mix di omologazione, ma anche al tempo stesso di frammentazione. E quindi noi ci troviamo di fronte a un terreno di riflessione politica e di analisi politica, a mio avviso, inedito, che non bisogna lasciare, come dire, inesplorato. Se, come è stato osservato già da tempo, il Nord, nella nuova divisione internazionale della produzione, delle produzioni, del lavoro, tende oggi a guardare ad un suo ruolo dipendente all'interno del capitale mitteleuropeo, ecco. Ebbene, diciamo che dal Sud può, sottolineo, può partire una lotta sempre più organizzata contro quello che è il suo ruolo attuale del Sud, cioè un ruolo di, diciamolo pure, di appendice subalterna ai dettami politico-finanziari dell'Unione Europea. Ecco, questo, questo nesso non mi pare emerso, finora con molta decisione, ma mi sembra che sia un nesso tutto da interrogare, proprio ai fini di un rovesciamento di questo statu quo. Naturalmente, questo ruolo di appendice subalterna del Sud ai dettami politico-finanziari dell'Unione Europea comporta anche un collegamento, che è tutto da costruire, socialmente e politicamente, con i conflitti, con i movimenti, le lotte di paesi che ehm tempo fa sono stati in qualche misura attraversati da questo da questa realtà di lotta. Parlo della Grecia, del Portogallo, della Spagna, che sono anch'essi a ben guardare come l'Italia in inchiodati in varia misura a questi ferrei dettami dell'Unione Europea. e questo comporterebbe una prospettiva che è tutta da pensare anche e da delineare della costruzione di un'antitesi vigorosa allo stato di cose presenti, per usare un'espressione famosa e felicissima e appassionata di Antonio Gramsci. Ora, diciamo che è da questo quadro, io insisto su questo su questo aspetto, che può, anzi deve, nascere il progetto di quello che alcuni anni fa fu chiamata una sinistra euro-mediterranea. non so se ricordiamo il dibattito di tempo fa. E questa sinistra euro-mediterranea, lungi dal configurarsi come una formula vuota o retorica, in qualche modo è stata ed è già presente ed è riconoscibile all'interno del dibattito, sia politico che culturale. e direi che qui andrebbe ripreso un problema che noi abbiamo avuto di fronte tempo fa, che forse però non abbiamo, credo, affrontato nel modo più efficace e più ricco possibile. cioè io credo che questo progetto di costruzione di una sinistra euro-mediterranea non può non partire da una da una riflessione diciamo profonda e critica su quella che è stata qualche anno fa, qualche tempo fa, la drammaticità inaudita della vicenda greca, ricordate della Grecia, che vicenda che al di là degli schieramenti pro o contro Tsipras, sia una vicenda diciamo sia una riflessione che sappia affrontare fino in fondo e e quindi sappia non eludere. è un nodo che diciamo oggi da tempo è il problema politico principale e cioè il nodo teorico politico del governo, di come sia possibile un governo reale e democratico nell'era che noi sappiamo essere l'era della governance, della gabbia d'acciaio della governance. è un progetto che dunque sappia costruire una una prospettiva di lotta contro l'egemonia neoliberista e con un respiro largo di alleanze e con chiare scelte di fondo direi a partire dal coinvolgimento attivo ineludibile di di quelli che possiamo chiamare i migranti di prima e seconda generazione. e riguardo a quest'ultimo aspetto c'è da dire che le le varie esperienze di qualche tempo fa eh sì di lotta e di autoorganizzazione del bracciantato migrante eh per esempio ricordiamo la vicenda dei migranti e rifugiati di Caserta e meno recentemente di quella dei movimenti di eh ricordate di Rosarno e di Nardò. beh segnalano la la possibilità direi per i subalterni del chiamiamoli così del tempo del neoliberismo trionfante di uscire in varie forme dalla disgregazione e dalla invisibilità che è proprio uno stigma diciamo sociale e politico del dell'oggi. ora questa uscita dalla disgregazione e dalla invisibilità eh resa possibile io credo solo possibile ma è è resa tale dall'affermarsi di un nuovo spirito di scissione eh per usare la formula di Gramsci cioè dal progressivo acquisto della coscienza della propria personalità storica. ed è uno dei terreni su cui oggi ha potuto delinearsi e configurarsi eh in parte lo spirito di scissione eh quello costituito da importante esperienze che ci sono state fino a qualche tempo fa eh e che andrebbero sviluppate e allargate le esperienze del cosiddetto neomunicipalismo eh mi sembra e anche le esperienze che qua e là anni addietro fosse con più vigore ma comunque ancora si 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 affacciano esperienze di nuovi movimenti ci sono gli movimenti inediti antagonistici grazie Grazie.